ciao ragazzi e bentornati sul canale in uno dei video precedenti vi ho parlato appunto del metodo di Bertillon e di come mai questo metodo ovviamente poi col tempo ha fallito in quest'altro video vi parlerò della classificazione del volto data da Martin e Saller praticamente essi individuarono 10 tipi facciali sul piano frontale cioè loro dissero la forma del viso può essere di queste tipologie guardando un viso di fronte vedete quante sono né chiaramente trovarono tantissime e anche diciamo vedendo un individuo di profilo fecero a ulteriori altre suddivisione in base a com'è il profilo della fronte del naso in base a com'è invece il profilo tra il naso e la bocca e poi il profilo nel suo assieme serrettilineo piramidale semilunare e così via e quindi chiaramente questo metodo di Martin e Saller è uno dei metodi più utilizzati attualmente e più completi perché poi negli ultimi anni se ne sono fatti sempre di meno tuttavia altri studiosi come appunto Williams cercarono ovviamente di studiare anch'essi il volto e per quanto riguarda appunto le tipologie del viso di Williams praticamente lui suddivise il volto in tre tipologie tipologia quadrata tipologia triangolare tipologia ovoidale i rapporti biometrici tra i denti e la faccia sono utili per definire la forma e le dimensioni dei denti protesici ma anche nei trattamenti ortodontici per poter per poter posizionare correttamente gli elementi dentali cioè se per esempio un paziente ha un viso triangolare se si vanno a mettere delle dentiere cioè dei denti finti io parlo anche in linguaggio semplice così chiunque possa comprendere quello che sto dicendo se si fanno per esempio delle dentiere a questo paziente ovviamente non si possono fare dei denti di forma quadrata se il viso è triangolare si vedrà ovviamente che quella protesi quei denti non sono chiaramente congrui per il suo volto e quindi i denti devono essere inseriti esteticamente in maniera corretta nel contesto del volto del paziente e secondo la teoria di williams è possibile individuare tre paia di punti di riferimento che permettono di classificare i tipi facciali in tre categorie principali il tipo quadrato quindi colui che ha praticamente un volto quadrato avrà anche un incisivo centrale superiore di forma quadrangolare colui che ha un volto di tipo triangolare avrà la forma dell'incisivo centrale superiore triangolare colui che ha un viso ovoidale avrà appunto il incisivo centrale superiore una forma ovoidale questa classificazione riscosso comunque sia notevole successo soprattutto in ambito dontoiatrico per le protesi mobili superiori e molti produttori che realizzano i denti artificiali li raggruppano sulla base di queste tre tipologie di williams e i punti di riferimento della classificazione di williams sono questi cioè i punti a che sono appunto le bozze temporali le tempie i punti b che sono appunto gli zigomi quindi le bozze zigomatiche e i punti c che sono invece gli angoli della mandibola se andiamo a vedere un biotipo quadrato queste varie linee praticamente risultano parallele vedete qui il biotipo quadrato queste linee praticamente di questi tre punti sono parallele ovviamente in un tipo triangolare invece è presente una maggiore larghezza a livello della fronte ovviamente è una minore larghezza a livello degli angoli della mandibola nel biotipo ovoidale invece c'è una maggiore distanza soprattutto tra gli zigomi e quindi unendo le linee si ottiene una linea curva quindi questo che vedete il numero uno è appunto quello quadrato il numero due è il biotipo triangolare vedete come più larga la fronte il numero tre invece è quello ovoidale praticamente ovviamente anche sul piano sagittale il profilo laterale del individuo può essere di due tipi o piatto o curvilineo si osservano infatti il profilo facciale il profilo vestibolare dell'incisivo centrale superiore prendendo in considerazione tre punti di riferimento che sono la glabella il punto subnasale che la base che è praticamente la base del naso e il mento che tecnicamente si chiama pogonion e il profilo dell'incisivo centrale superiore risulta essere direttamente proporzionale alla linea che va a unire questi tre punti e quindi adesso andiamolo a vedere un pochettino più nel pratico per poterci capire meglio se abbiamo un profilo laterale piatto i tre punti di riferimento saranno ben allineati tra di loro e quindi l'incisivo centrale sarà piatto vestibolarmente questo è il caso vedete come diciamo la linea che unisce i tre punti che abbiamo detto cioè la glabella il punto subnasale del pogonion praticamente sono sulla stessa linea retta questo è un profilo piatto che è tipico di noi caucasici soprattutto poi abbiamo il profilo laterale curvilineo dove appunto il punto subnasale più diciamo protruso cioè più in avanti altre volte invece può essere il punto pogonion essere più indietro o altre volte sono entrambe le condizioni associate tra di loro fondamentalmente e l'incisivo centrale superiore ha un profilo curvo questo è il caso vedete questa ragazza praticamente che ha diciamo questa linea curva il profilo è curvilineo praticamente anche l'incisivo centrale superiore di profilo dovrà essere così se si fa piatto in una ragazza con un profilo del genere se in una protesi per esempio se in un trattamento ortodontico si va a posizionare un dente in maniera piatta se vogliamo andiamo a retrudere troppo per esempio ci sono problemi ovviamente estetici poi per quanto riguarda diciamo il piano orizzontale prendendo in considerazione i tre punti è possibile valutare il profilo facciale rispetto al profilo mesiodistale dell'incisivo centrale superiore i tre punti di riferimento sono lo zigomo destro e lo zigomo sinistro e la base del naso qui potete vedere infatti che in questo caso il profilo mesiodistale è piatto in questo caso è più curvilineo oltre a williams ci fu anche lì che diciamo fece una classificazione valutò il rapporto tra le misure della fronte la distanza tra gli zigomi e la distanza tra i due gonion cioè i triangoli della mandibola e videro che vede appunto che erano il rapporto con gli incisivi e quindi anche lui andò a suddividere il volto in quadrangolare ovoidale e triangolare il volto deve avere delle proporzioni facciali ideali questo lo trovate su tutti i libri di ortodonzia è possibile infatti suddividere il volto al fine di analizzare le sue proporzioni in terzi verticali e in quinti orizzontali come potete vedere qui per quanto riguarda i terzi verticali del volto praticamente abbiamo il terzo superiore che va dall'attaccatura dei capelli alla glabella che praticamente un punto che si trova più o meno tra le due sopracciglia il terzo medio va dalla glabella al punto subnasale cioè alla base del naso il terzo inferiore va dal punto subnasale al al menton praticamente questo è il rapporto se vogliamo ideale e poi c'è la suddivisione in quinti orizzontali dove abbiamo il quinto intermedio che va dal canto interno dell'occhio destro al canto interno dell'occhio sinistro due quinti mediali che va dal canto interno al canto esterno i due quinti esterni che vanno dal canto esterno all'elice laterale dell'orecchio quindi qui sopra vedete appunto i terzi verticali sotto invece vedete i quinti orizzontali se il video ti è piaciuto io ti invito appunto a lasciare un mi piace e iscriverti al canale ci vediamo al prossimo video grazie